Ora è ufficiale. Lo spostamento del personale operativo dall'aeroporto militare di San Damiano nel comune di San Giorgio Piacentino è fissato per l'estate del prossimo anno. A renderlo noto sono stati i rappresentanti dell'aeronautica militare intervenuti ad una riunione in prefettura a Piacenza, finalizzata all'esame della situazione collegata alla chiusura dello scalo, sede della cinquantesimo stormo dell'aeronautica militare italiana. All'incontro, preseduto dal prefetto Anna Palombi, oltre ai rappresentanti della politica locale, erano presenti i vertici dell'aeronautica e il comandante dell'aeroporto di San Damiano. Tale spostamento di personale però, stando a quanto affermato dai rappresentanti dell'aeronautica militare, non significa la fine del presidio militare, in quanto il patrimonio alloggiativo di San Giorgio e di San Polo verrà mantenuto, tanto che è stata prefigurata la possibilità dell'utilizzo dell'aeroporto per altri impieghi che potranno essere successivamente verificati. Una cosa è comunque certa, nell'ambito di dieci anni al massimo l'operatività sarà annullata. Nonostante possa servire in termini di protezione civile, per ora la regione Emilia-Romagna non è intervenuta nel dibattito. Resta la speranza che l'aeroporto di San Damiano possa essere utilizzato per il traffico dei cargo e delle merci, al servizio anche del polo logistico di Piacenza, sperando che possa essere ultimata la tangenziale che dalle mose porta a San Giorgio Piacentino. Sempre sulla fronte politico c'è da registrare la polemica innescata dalla Lega Nord nei confronti dell'assessore regionale Paola Gazzolo, che secondo il Carroccio si distingue per assenza e silenzi. In particolare, la Gazzolo non è intervenuta in prefettura a Piacenza sul futuro dell'aeroporto di San Damiano, denotando così uno scarso interesse per il futuro del territorio piacentino.